Il software applicativo ci consente l'elaborazione di documenti di diverso formato. Il software di sistema, definito anche sistema operativo, ci permette la gestione del computer e allestisce l'ambiente virtuale in cui le applicazioni stesse possono funzionare. Le versioni attuali di sistema operativo sono caratterizzate da una interfaccia grafica, la cosiddetta GUI, Graphical User Interface, che facilita l'interazione con l'operatore, rendendola intuitiva. Questa caratteristica ci consente di individuare subito le varie funzioni di gestione e di rintracciare documenti archiviati in apposite cartelle, al fine di gestirli nel modo più opportuno, e consente l'estrema personalizzazione della postazione di lavoro, rendendola più gradevole sulla base dei nostri gusti e preferenze. Nelle esemplificazioni ci serviremo del sistema operativo Windows XP.